Siamo in compagnia di Norma Gimondi, prima donna candidata alla presidenza della FederCiclismo. Partiamo dalla parola passione. Che peso ha nella sua candidatura? Passione ha avuto un peso fondamentale. Io amo il ciclismo, è lo sport della mia famiglia, perché oltre ad aver avuto papà felice, campione, ho avuto anche uno zio e un cugino che sono stati professionisti in ambito ciclistico. Passione per questo sport e devo dire che dalla mia presentazione, dalla mia candidatura oggi, sono stata fortunata, ho trovato sulla strada tante altre persone che lavorano con passione in questo sport e che mi incitano quotidianamente ad andare avanti in questa mia candidatura. Ecco, come definirebbe il momento attuale del ciclismo italiano e da dove si parte per rilanciarlo? In ciclismo italiano possiamo analizzare il discorso professionistico, dove purtroppo oggi non abbiamo più squadre pro tour, i professionisti in attività si sono dimezzati rispetto al 2014, ma anche il calendario delle gare, ahimè, si sta riducendo. Quindi questo è un punto di partenza importante. Valutando che altri paesi come la Spagna, la Francia e l'Olanda hanno reagito benissimo al momento di crisi, il punto di partenza per quanto riguarda l'attività professionistica è questo. Dall'altro punto di vista invece che al settore amatoriale, devo dire che lì i numeri sono importanti, sia per quanto riguarda società affiliate che per quanto riguarda i tesserati, e anche manifestazioni di carattere internazionale che si svolgono sul nostro territorio, raccolgono a ogni anno numerosi partecipanti di tutte le nazionalità. Quello è senz'altro un bacino che la federazione dovrà sfruttare anche nei prossimi anni. Bene, quindi le chiedo anche se in questa particolare fase storica ha senso l'espressione made in Italy. Decisamente sì. La bicicletta è nata in Italia. Noi abbiamo marchi storici, oggi come oggi, che vengono ricercati a livello internazionale. I paesi arabi acquistano i nostri prodotti, non soltanto nell'ambito delle biciclette, ma anche in tutta quella che è la componentistica. Ed è necessario trovare delle sinergie con i produttori italiani per portare avanti la federazione e valorizzare la maglia azzurra. Spesso noi la vediamo in sella a una bicicletta. È giusto definirla una candidata, diciamo così, legata al territorio e non da poltrona, insomma, per semplificare? Assolutamente. In bicicletta non smetterò mai di andare. Anche ieri ho fatto all'incirca 60 chilometri. È fondamentale per me andare in bicicletta perché mi fa sentir bene, ma anche perché entro in contatto davvero con altri appassionati che vivono come me il ciclismo, con compassione, come momento di aggregazione. Ecco, se io le dico Tokyo 2020, qual è il suo primo pensiero? A Tokyo c'è stato mio padre, ha corso le Olimpiadi, li ha disputate nel 1964. E quindi spero di poter essere a Tokyo nel 2020. E restando in tema di Olimpiadi, devo chiederle cosa pensa del no a Roma 2024? Mi dispiace, è un'occasione perduta. L'ultimissima domanda invece è una curiosità. Da dove nasce il nome Norma? Le è mai stato detto? Perché l'hanno chiamata Norma? Sì, mia mamma è orfana di mamma, sua mamma si chiamava Norma. E la mia nonna era stata chiamata così dalla mia bisnonna Natalina, che era un'amante dell'opera e quindi diede alla mia nonna questo nome. Mancando lei, mio papà e mia mamma hanno deciso di darlo a me quando sono nata. Benissimo, ringraziamo Norma Gimondi per la sua disponibilità. Questo è tutto, Simone Pace per datasport.it, Cologno, Monzese, Milano.